Clooney, Scorsese e Meryl Streep sono i vincitori dei Golden Globes 2012, giunti alla 69esima edizione. La cerimonia, come al solito, si è svolta nell'hotel Hilton di Beverly Hills. Tante le star che hanno sfilato sul red carpet per ricevere la statuetta, considerata da sempre sorella e anticipatrice dei premi Oscar. Tra previsioni e sorprese si è imposto il film The Artist, miglior commedia e colonna sonora. Ha vinto anche l'attesissimo Paradiso Amaro, diretto dal premio Oscar Alexander Payne, che si è giudicato due premi. Uno come miglior film drammatico e l'altro assegnato a George Clooney come miglior attore protagonista. Il premio per la miglior regia è andato a Martin Scorsese, con il film Hugo Cabret, mentre l'interpretazione di Margaret Thatcher fatta da Meryl Streep nel film The Iron Lady le è valso il Globe come migliore attrice in un film drammatico. Trionfa anche Woody Allen, migliore sceneggiatura per Midnight in Paris. A Madonna il premio per la miglior canzone originale, composta per il film da lei prodotto Edoardo e Wallis, rivisitazione della vita amorosa di Edoardo VIII. Importanti anche i riconoscimenti alla TV. A vincere come miglior serie drammatica la produzione CBS Homeland, ancora inedita in Italia. Miglior commedia per il piccolo schermo invece Modern Family, che è giunta alla sua terza stagione, con la particolare tecnica del falso documentario è riuscita a conquistare anche il pubblico italiano.